È un viaggio nella musica della Rovole per arrivare a Rossini. La spirito di questo festival di musica antica è di riscoprire le bellezze di questo territorio nel passato che ancora sono presenti oggigiorno partendo dalla musica ovviamente ma anche dai luoghi musica menilosi vuol dire quello. Noi quest'anno proviamo a colmare il gap che c'è dal rinascimento per arrivare a Rossini con la musica e far vedere che Rossini non è calato dall'alto ma c'era una grande storia della musica presente a Pesaro un gran fermento musicale. Partiamo dalla corte dei Dallarovre perché abbiamo in quel momento praticamente la carta di Urbino si è spostato verso Pesaro. Pesaro era il palazzo dove si facevano le feste di carnevale allora c'era tanto fermento e questo fermento dopo si è spostato anche si è continuato nella città di Pesaro dopo la devoluzione e Dallarovre non c'erano più ma quel fermento, quel seme era stato piantato e è rimasto vivo è rimasto vivo con tanti musicisti che poi sono diventati anche conosciuti a livello europeo che hanno portato sì, che siamo arrivati a Rossini allora nei Dallarovre ci sono tutti gli autori più importanti della musica rinascimentale che hanno lavorato a corte, per la corte, messo in scena degli grandi spettacoli oppure abbiamo nel Seicento i violinisti famosissimi che hanno suonato in tutta Europa che hanno imparato dai più grandi maestri, erano stimati dai più grandi maestri